Dottor Marchesi, può presentarci i casi che tratterà oggi? Volentieri. Allora si tratta di tre casi molto didattici. Il primo è l'infissione di un impianto in area 46. La paziente è una giovane donna che fa l'infermiera e il dente è stato estratto per problemi endodontici in giugno. Quindi dovrebbe esserci una maturazione, una guarigione dei tessuti ossi, ossi ottimali. Qui vediamo la programmazione che è stata eseguita, l'impianto è una distanza di sicurezza, la condizione pare ideale, ad eccezione per una piccola area che appare ancora radiotrasparente, quest'area verrà indagata facendo un sounding osseo durante la procedura di anestesia. Bene, questo è il primo caso. Il secondo caso? Il secondo caso è un caso sempre di un giovane paziente che ha una agenesia di premolari inferiori, ha avuto un allineamento ortodontico diciamo parziale perché poi si è ritirato dalla terapia, a questo punto ha uno spazio intermedio tra un molare e un premolare, però vorrebbe avere una masticazione comunque completa e allora abbiamo deciso di accettare in modo consensuale questo piccolo compromesso di fare un premolarone da entrambe le parti o un molarino, chiamiamolo un po' come vogliamo e sfruttando la posizione anche qui ideale che il Naviden ci consente di programmare per questi denti che sì, non avranno una forma veramente naturale ma si confonderanno nell'arcata. Poi abbiamo infine l'ultimo paziente, qui si tratta dell'infezione impianti, un impianto in area estetica, il paziente è un paziente anziano, non chiede un completo ripristino dell'estetica bianco-rosa, chiede bensì di avere un dente fisso al posto di una protesi parziale rimovibile che ormai lo infastidisce. Fra l'altro scopre pochissimo, abbiamo una linea del sorriso molto bassa, quindi quello che cerchiamo noi è di ottenere un posizionamento di un incisivo laterale fisso tramite l'infissione di un impianto. Da tuo punto di vista, quali sospetti siano i vantaggi nell'uso del Navident in questi tre casi? Beh, naturalmente quello che mi sembra l'aspetto fondamentale è il fatto che posso programmare in modo assolutamente preciso, accurato, quello che sarà l'output protesico degli impianti. Cioè la condizione qui è estremamente semplice e comunque qualsiasi implantologo potrebbe risolverla anche a mano libera con facilità. Ma col Navident possiamo programmare l'output protesico e sapere in anticipo quelli che saranno i nostri risultati finali. La cosa mi sembra estremamente significativa per non doversi poi arrampicare a correggere situazioni difficili. Dottore, quale pensa siano altri vantaggi nell'uso del Navident? Come vi stavo dicendo, sicuramente la programmazione, la programmabilità dell'output protesico, ma anche la possibilità di gestire i tessuti molli. In questo paziente più anziano, a livello di un premolare, probabilmente aprirò un lembo e comunque continuerò ad effettuare una navigazione dinamica guidata del tessuto. Un altro vantaggio estremo è la possibilità di cambiare il piano di trattamento in corso dopo. Nel primo caso, il più semplice, il più schematico, il più didattico, ho un residuo dubbio sulla guarigione ossea a livello del sito estrattivo. Farò il sounding e se non mi convincerà, cambierò in corso di intervento il posizionamento dell'impianto e lo metterò a livello della radice distale, mi sposterò più distalmente. Perfetto, grazie. Grazie.